Buongiorno e bentornati su Viaggi e Volti, ci troviamo nel bellissimo Bosco di Capriana in Val di Fiemme e da poco è stata inaugurata la Fiemme Wellness Community che è un grande progetto di cui è stato tagliato appunto il nastro ufficialmente a Cavalese anche in vista delle imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Diamo il benvenuto a Sandro Marsilli che mi ha detto la sua qualifica precisa così che sono un dottore naturalista, un faunista che si occupa ovviamente anche della gestione dei nostri boschi. La Guida di Eccezione è oggi in un percorso, una bellissima passeggiata diciamo anche multisensoriale in questo paradiso dove si è parlato di biofilia ed è proprio questo l'argomento che vorremmo approfondire perché credo susciti anche l'interesse dei nostri followers. Cosa si intende per biofilia e come si può sperimentare magari anche qui in Val di Fiemme in autunno? Allora visto che parliamo di benessere la biofilia è il focus, la biofilia è il nostro legame con la natura, un legame ancestrale che è all'interno del nostro DNA e che purtroppo per i nostri ritmi di attività moderna ci siamo dimenticati. Quindi è possibile recuperarlo facendo proprio delle escursioni nel bosco, ancor meglio ovviamente accompagnati perché il bosco è ciò che ci può donare il benessere psicofisico grazie alla presenza proprio della comunità degli alberi che viene chiamata comunità vegetale che ci donano delle essenze. Ci spiegava che gli alberi comunicano anche fra di loro e vorrei capire meglio in che modo gli alberi comunicano fra loro perché appunto lei ci diceva vediamo questi alberi come degli esseri viventi non semplicemente delle manifestazioni naturali. Come fa a venire la comunicazione fra gli alberi? Allora gli alberi sono sempre stati nel corso di millenni bistrattati, sono sempre stati visti come degli esseri inferiori ma invece proprio per il fatto che di fronte ai pericoli loro non possono scappare quindi sono radicati hanno sviluppato delle strategie di comunicazione e di difesa molto più avanzate rispetto agli animali o rispetto anche agli uomini. Quindi le piante comunicano tra di loro tramite le radici, tramite le ife dei funghi, tramite delle piccole scosse elettriche e soprattutto tramite delle essenze che vengono chiamati terpeni che a loro servono per parlarsi tra virgolette e che a noi invece servono per stare bene perché abbiamo un effetto benefico psicofisico. Quindi mi conferma che la tree medicine di cui si parla tanto non solo nel mondo nipponico ma anche nel mondo angostasso nella medicina degli alberi è come dire una full immersion di salute cioè al di là del semplice allenare il fisico con il trekking venire in questi boschi significa anche un po' riequilibrare la mente, riequilibrare le energie in particolar modo sono stata colpita da qualche esperienza che abbiamo fatto oggi che vorrei brevemente riepilogare questo attirare la comunicazione degli uccelli cioè che lei ci ha fatto vedere prima con il suono e che tipo di uccelli ha evocato? Allora questa è una stimolazione che serve ovviamente per i monitoraggi scientifici anche per la divulgazione e per la didattica oggi abbiamo tirato la cinciamora che è la specie più numerosa con più alta densità all'interno dei nostri boschi misti ma parlando di cincia parliamo anche di comunità alla fine quindi la comunità boschiva è fatta ovviamente da alberi, da piante, da animali e anche da noi stessi che frequentiamo questi meraviglioli boschi e ne traiamo assolutamente beneficio. Infatti poi ricordiamo si può anche prendere la linfa delle betulle e realizzare l'infuso proprio live con la menta selvatica al miele quindi tante belle esperienze un po' per tutte le età. Ricordiamo oltre al sito Visit Fiemme quale sito magari si può consultare se si vogliono organizzare queste escursioni? Allora queste escursioni vengono organizzate ovviamente dalla PT ma vengono organizzate anche da noi direttamente siamo una società albatross.tn.it Perfetto quindi vi invitiamo tutti in Val di Fiemme noi stiamo vivendo il World Wellness Weekend 2024 ma la stagione è ancora lunga prima della neve quindi ancora tanto verde. A presto e continuate a seguirci. A tutti un grande saluto. Grazie